ciao ragazzi io sono luca oggi una giornata speciale perché abbiamo raggruppato tutta la gravity school ma prima di raccontarvi le novità vi presento lo staff tatiana laki claudio delpo elena e fabio ognuno di noi adesso vi racconterà che cosa faremo nello specifico la prima cosa che ci tengo a sottolineare che la gravity school fa corsi per qualsiasi tipo di livello quindi se avete appena preso la bicicletta o se siete esperti abbiamo un corso che fa al caso vostro le novità per il 2017 sono l'e-bike che abbiamo già introdotto nel 2016 ma implementeremo ancora di più il numero di corsi e le varie tipologie e poi il gravity tuning abbiamo visto nei migliaia di corsi che abbiamo fatto che la maggior parte delle persone non sa regolare e impostare la bicicletta bene alte basse velocità in compressione pressione delle gomme e tante piccole finezze i gravity tuning serviranno per spiegarvi nel modo migliore possibile come personalizzare la vostra bicicletta su di voi io sono laki mi occupo della gestione di tutta la gravity school dell'organizzazione della pianificazione dei corsi in italia e all'estero nel 2017 avremo tantissime novità cercheremo di ripetere i 45 corsi che abbiamo fatto quest'anno portandovi in tutta italia da nord a sud e portandovi ancora all'estero come per esempio a whistler ciao ciao io sono claudio coach e responsabile delle gravity pump un corso in pam trek è praticamente la chiave di accesso secondo la gravity school per qualsiasi tipo di rider dal principiante all'avanzato questo perché per il principiante diciamo che è tassativo iniziare da un corso che spiega l'abc della mountain bike e comprende anche la proprio eccezione e tanti altri piccoli input che fanno veramente la differenza per il rider esperto invece è un po come affilare la lama ed essere sempre sul pezzo per dare il massimo questa è una delle dieci bici che abbiamo a disposizione per i nostri corsisti quindi vi aspettiamo anche per le gravity pump ciao a tutti io sono tatiana media manager della gravity school mi occupo principalmente dello sito web anche della produzione di foto e video e tutto quello che serve per portare la immagine della gravity school per tutto il mondo ciao io sono delpo il nuovo coach della gravity school novità del 2017 sarà una riding house a montalpette in provincia di cuneo dove sarò presente per qualsiasi tipologia di corso ciao sono elena nel 2017 ci saranno tantissime novità anche per le ragazze con le gravity lady dove abbineremo apprendimento e divertimento ciao sono fabio coach della gravity school il mio compito è quello di mettere a proprio agi rider più timorosi durante i corsi ciao e vi aspetto vi ho presentato i coach vi abbiamo presentato le novità vi auguriamo una bellissima stagione e adesso noi andiamo a girare ciao ciao sono fabio coach della gravity molto apprendimento ma anche sto cazzo raga muoviamoci che fa un cacchio di freddo e c'ho le mani ibernate in questa bella giornata che doveva esserci il sole dai no raga non c'è da ridere non ce l'ha fatto hai capito solo che più vado avanti più è peggio ho provato a fare il video 5 volte ma non gli viene tanto bene grazie tipologia di corsa yeah ce l'ha fatta yeah vai dia alla prima cazzo alla prima ehm i gentili televisioni ehm ahah ahah ahah